ben trovati a tutti buon inizio di settimana veloce il punto sul gold che si avvicina a un livello interessante siamo soltanto un grafico lineare per evidenziare meglio i livelli avevamo questa area supportiva a 1880 evidenziare proprio con questa trend line e sostanzialmente avevamo dapprima evidenziato proprio una figura di analisi tecnica importantissimo un triangolo un triangolo ribassista abbiamo avuto rottura poi conseguentemente il classico pullback a validare il triangolo e poi appunto normalmente la discesa come spesso avviene e in questo caso ci andiamo adesso ad avvicinare a un livello supportivo nuovo e siamo in area 1785 1790 su questo livello che già è stato un doppio minimo quindi occorre con un po di pazienza ancora attendere l'approdo a 1785 dollari dove poi con eventuali pattern rialzisti giapponesi potremo potremo cercare l'ingresso al rialzo è un livello importante sia perché questo doppio minimo è un livello pulito evidente sul grafico sia perché che l'ingresso ci permetterebbe poi di andare a posizionare il nostro stop loss sotto a un altro livello supportivo parliamo dei 1760 dollari dove vediamo questo di triplo minimo eccoci quindi avremo un ingresso protetto secondo supporto questo è un livello importante perché sostanzialmente poi è l'estensione della dell'area del triangolo ribassista quindi dovrebbe qui esauda target il movimento del triangolo esaurirsi qui la riscesa ingresso long appunto sarebbe poi protetto da un doppio supporto quindi monitoriamo 1785 dollari in ottica long buon trading a tutti